L'Ufficio Educazione Stradale della Polizia Municipale si occupa di formare i giovani e i ragazzi frequentanti le scuole di Palermo sulle regole e sui comportamenti corretti che bisogna usare quando siamo sulla strada. Il nostro obiettivo è quello soprattutto di raggiungere noi adulti e far riflettere sul nostro comportamento e sulla nostra condotta sulle vie della città. Organizziamo manifestazioni rivolte non solo ai ragazzi e ai bambini ma soprattutto alla cittadinanza mettendo in evidenza il pensiero, il linguaggio e il messaggio di sicurezza che i ragazzi danno dopo aver svolto con noi un corso di educazione stradale.